Io sono Riano Tiberi, rappresento quel simbolo lì, Italia Centro. Le parole che ha detto il Presidente Marinelli collimano perfettamente con quello che è il DNA e la natura di Italia Centro. Abbiamo una parola difficile in Italia Centro, che è il nostro motto, che è simile a quello del Presidente Marinelli. Il nostro motto è Ad Maiora. Noi vogliamo fare le cose grandi e una cosa grande sarà quella di prendere la Regione Marche. Vinceremo nella Regione Marche perché siamo bravi, perché abbiamo voglia di cambiare, abbiamo voglia di modificare la situazione. Però noi vogliamo cambiare con alcune parole chiave che per noi di Italia Centro sono importanti. Noi vogliamo fare le cose grandi, con lealtà, alla base di ogni cosa la lealtà, con solidarietà. Noi vogliamo essere solidali, specialmente con le persone che hanno di meno. Concretamente, come diceva Marinelli, più fatti e meno parole. Quindi noi vogliamo essere concreti. E poi non possiamo non vincere perché i nostri simboli sono molto, molto belli, molto significativi e molto efficaci. In modo particolare il simbolo di Marinelli perché qui ci sono, sì è vero, liste civiche, ma ci sono anche liste che sono liste nazionali. C'è il Partito Repubblicano, c'è la Sant'Anché e Italia Centro vuole essere una grandissima lista civica di tutta l'Italia centrale. Noi abbiamo la presunzione utopistica di rappresentare gli interessi delle otto regioni dell'Italia centrale. Perché se al nord c'è la Lega Nord che fa gli interessi del nord, al sud c'è l'MPA che fa gli interessi del sud, nell'Italia centrale c'è Italia Centro che farà gli interessi esclusivamente della gente dell'Italia centrale. In modo particolare in questa avventura farà gli interessi dei marchigiani. E caro Presidente, il 29 marzo festeggeremo la tua elezione a Presidente. Entro subito nei problemi veri. E' 15 anni che ci amministra il centro-sinistra. Noi non condividiamo l'ultima politica che ha fatto in questi anni perché le Marche purtroppo è una regione ben diversa dalle altre. Abbiamo sia una zona costiera dove praticamente i cittadini tutti i giorni devono combattere con lo smog e il traffico. Ancona è una delle città più inquinate d'Italia. Pesaro verrà squarciata nel cuore con la terza corsia con l'autostrada e quindi perigererà ancora la propria situazione. Mentre i cittadini delle zone interne che vivono nell'Appennino sono stati spogliati dei propri servizi eccetera. Questo divario sicuramente fatto da un partito, diciamo da una coalizione di centro-sinistra che sicuramente dovrebbe essere più vicina ai cittadini come sempre dicono ad alta voce. In realtà se ne sono veramente molto allontanati. E gli spot che costano un milione e quattrocento mila euro solo per dire le Marche è bella. Bene, lo sappiamo bene tutti che è bella e bellissima e quindi credo che proprio noi come partito repubblicano che siamo stati sempre molto così pragmatici sui problemi indipendentemente dallo schieramento sinistra o destra guardiamo veramente chi opera per il bene dei cittadini. Dopo 15 anni, dopo il governo fallimentare di questi ultimi 5 anni del governatore Spacca è ora di cambiare registro. E quindi come diceva un attimo fa l'amico Tiberi, questa coalizione, questa lista civica ma non civica perché abbiamo anche altri partiti nasce proprio per sostenere il Marinelli che veramente è una persona squisita, i marchigiani avranno la fortuna di conoscerlo perché gli auguro il successo come governatore perché è già amministrato bene, è già nella vita privata una persona capace che sa fare e quindi con entusiasmo il partito repubblicano appoggia la candidatura Marinelli insieme agli amici della coalizione che come lista, dicevo, civica avrà sicuramente un successo. Io dopo passerà la parola il presidente del MAP dove come lista civica, sempre con alleati del partito repubblicano, nella passata così elezione sono scattati ben 4 consiglieri provinciali. Io auguro alla lista insieme per Marinelli, insieme per il presidente che scattano 4 consiglieri regionali. Sono Pasquale Allevi, sindaco, come diceva Erminio, dal 99-2009 a Fonignano che è un paese di 10.000 abitanti e volevo portare un augurio grande. Noi siamo partiti circa 2-3 mesi prima delle elezioni provinciali. Stufi di un certo modo di fare politica, stufi di seguire i partiti in maniera subordinata. Quindi siamo partiti con questo esperimento che ha funzionato benissimo insieme ai repubblicani che ci hanno dato una grossa spinta, una grossa forza e nel giro di pochissimo tempo siamo riusciti a portare a casa 4 consiglieri provinciali e soprattutto a scardinare dopo circa 20 anni la provincia di Ascoli e riportarla al centro-destra. Noi ci siamo messi subito d'accordo con Erminio per i tre punti fondamentali del programma che crediamo che siano indispensabili. La sanità, dal nostro punto di vista io sono un ortopedico, sta creando grandissimi disagi a tutta la popolazione. L'ambiente, e voi sentite anche in questi giorni quello che sta succedendo per quanto riguarda le persone che dovrebbero in qualche modo cercare di portare avanti delle battaglie dei verdi sono le persone peggiori per quanto riguarda invece gli inquinamenti e i discorsi che si fanno soprattutto a livello dell'impiego. E l'ultimo è l'impiego, il lavoro. Abbiamo soprattutto ad Ascoli un problema grandissimo di disoccupazione. Stanno chiudendo tutte le fabbriche. Non c'è una politica innovativa, non c'è una ricerca di innovazione e noi dovremmo in tutti i modi, e questi sono gli stimoli che ci ha dato il Presidente, il candidato Presidente, e sono sconvinto che se noi portiamo avanti questi stimoli e la gente è con noi e non guarda più i partiti ma guarda soprattutto chi ha interesse nel territorio, sono convinto che avremmo un successo grandissimo. Grazie.